Ciao a tutti gli amici di eSports Club, io sono Martina Donegani e sono una biologa nutrizionista. In questi video vi aiuterò a capire il nesso che c'è tra la vostra alimentazione e la vostra performance. Tutto quello che ingerite e anche quello che bevete può riflettersi sulla vostra prontezza dei riflessi, sulla vostra velocità decisionale, sulla vostra acutezza della vista, così come sulla vostra concentrazione. Ed è quello che faremo in questo primo video. Tre parole d'ordine che bisogna tenere a mente sono leggerezza, varietà e completezza. Leggerezza perché? Perché fare un pasto che non fatica eccessivamente la digestione aiuterà a risparmiare le energie e a darle al cervello sostanzialmente, che è quello che ci serve durante una partita di gioco. Quindi se facciamo un pasto troppo pesante, troppo ricco di grassi, che sono quelli che l'organismo fa più fatica a digerire, andremo ad impegnare tutte le energie nel sistema digestivo e inevitabilmente la nostra prontezza di riflessi ne sarà penalizzata. Varietà perché non esiste un alimento che di per sé contenga tutte le sostanze di cui l'organismo ha bisogno e soprattutto consumando alimenti di diverso tipo appartenenti a vari gruppi alimentari si riesce a garantire, soprattutto con i micronutrienti, di cui l'organismo ha bisogno per fare anche delle azioni molto semplici come il click del mouse. Pensiamo che anche delle azioni così banali che noi facciamo durante una partita di gaming, comunque tutte nascono da degli impulsi che partono dal nostro cervello e che sono mediati da delle sostanze che noi introduciamo, in questo caso per esempio come il calcio o il magnesio, per cui variare ad esempio il colore della frutta, della verdura che andiamo a introdurre, le fonti proteiche, le fonti di carboidrati è assolutamente essenziale e questo si collega all'ultimo principio chiave di un'alimentazione funzionale che è quello della completezza, quindi bisogna garantire tutti questi cosiddetti principi nutritivi nelle giuste quantità. Quali sono i principi nutritivi? I principi nutritivi non sono altro che delle sostanze contenute negli alimenti che assolvono a diverse funzioni. Li possiamo classificare in due grosse categorie, i macronutrienti e i micronutrienti. I macronutrienti sono tre, li avrete già probabilmente sentiti nominare, e sono i carboidrati, i grassi e le proteine, mentre i micronutrienti sono sostanzialmente le vitamine e i sali minerali. Venendo ai nutrienti assolvono a varie funzioni che possiamo a loro volta raggruppare in tre grosse aree, una funzione energetica e i nutrienti principalmente dedicati a questa funzione sono i carboidrati e i grassi. In totale comunque su un 50% delle calorie giornaliere deve prevenire dai carboidrati, perché sono fondamentali anche come nutrimento del cervello. Il cervello si nutre principalmente a glucosio, quindi una dieta troppo povera di carboidrati non può far altro che essere controproducente per la nostra performance. Anche i grassi sono fondamentali per dare energia, ma non solo, hanno anche altre funzioni, vanno a costituire le membrane cellulari, anche quelle del nostro cervello, trasportano alcune vitamine, quindi nelle giuste quantità circa il 30% delle calorie giornaliere devono essere anche loro presenti. Le proteine poi sono ovviamente fondamentali per il ricambio dei tessuti, per la sintesi muscolare e l'apporto proteico consigliato è di circa un grammo di proteine per chilo di peso corporeo al giorno. Questo valore poi può aumentare leggermente se si mantiene uno stile di vita attivo, che è assolutamente consigliabile anche quando si sta comunque seduti per così tanto tempo, proprio per bilanciare il nostro dispegno energetico e far sì che il nostro organismo bruci di più e sia più performante. Senza dimenticare l'importanza di vitamine e sali minerali che non ci danno energia, non hanno una funzione plastica come quella delle proteine, ma hanno una funzione cosiddetta bioregolatrice. Quindi anche qui il consiglio è sempre di variare e poi di consumare comunque un'abbondanza vegetali freschi. Ci vediamo con il prossimo video per approfondire quali sono i nutrienti che in particolar modo hanno un'azione nel favorire la concentrazione e la prontezza dei riflessi.